www.redigio.it e la storia continua Nel territorio del lago di Comabio non era certo un paradiso terrestre, e vi furono stenti, invasioni e calamità. I nostri antenati dovevano versare numerose tasse ai feudatari del tempo e alla chiesa, il fodro, il focarico, la gabella del sale, i pedaggi, i censi, il mensuale, la tassa sul macinato, i stronomenti notarili, balconi, cavalli, perticato, le decime e le primizie, queste due in favore delle chiese. Alla povera gente rimaneva ben poco, e quel poco che restava veniva saccheggiato dagli eserciti invasori. 1510. I mercenari svizzeri del vescovo di Sion fecero un'incursione passando da Tresa, mettendo a ferro e fuoco i nostri territori, e dopo averli saccheggiati si ritirarono prima del sopraggiungere dell'inverno. Nel 1538 toccò agli spagnoli effettuare frequenti scoreria anche nei nostri paesi di Comabio, costringendo la popolazione a versare pesanti tributi. E come se non bastasse, nel 1576 si scatenò improvvisamente quella che fu definita la Peste di San Carlo, che colpì pesantemente anche Vrigiate, e dove si dovette allestire un lazzareto per ricovero degli ammalati. Ancora oggi la zona dove sorgeva, tra la provinciale di Varese e la strada per la discarica comunale, è detta il lazzaretto. Il 2 gennaio 1578 cessò l'allarme della pestilenza, e il 24 dicembre del 1633 abitavano a versate 79 famiglie e 354 abitanti. Neppure è tempo di alzare la testa che il 22 giugno 1636 le truppe del re di Spagna, capitanate dal marchese Léganès, si scontrarono nella sanguinosa battaglia di Tornavento con l'esercito francese, alleato con i piemontesi, al comando del maresciallo Crequi, e ci furono circa 2000 morti. I franco sabaudi, pur prevalendo e costringendo gli spagnoli a ritirarsi verso Milano, subirono pesante perdite e dovetero rinunciare alla conquista del Ducato della Lombardia. A questo punto, i franco sabaudi si abbandonarono alla devastazione delle nostre zone, saccheggiarono, uccisero, violentarono, incendiarono, prendendo solo quella popolazione inerme. La sola parrocchia di Vergiate subì danni per 300 scudi, al curato bruciarono la casa, cantina e stalla. In paese venne rubata ogni cosa, biancheria, peltri, rame, miglio e altro. Scrive il curato di allora, Melchior Cossia, E anche tutta la terra, tutto bruciato, e tutte le altre terre, i vicini per otto miglia in cerchio, cosa che mai a vita di uomini si è mai visto. I franco sabaudiardi se ne andarono il 22 luglio del 1636, e Vergiate era praticamente rasa al suolo, e gli unici a rimanere furono coloro che non avevano nemmeno i mezzi per abbandonare il paese. In quel mese di devastazioni andarono anche distrutti importanti documenti sulla storia di Vergiate. Sempre il curato riporta, chi non la nota, io, curato di Vergiate, per l'invasione dei francesi, quale fu all'20 giugno fino al 22 di luglio 1636, e così io avevo sotterrato le scritture della Chiesa e la maggior parte sono marcite sottoterra. www.redigio.it E la storia continua. www.redigio.it 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 Grazie a tutti